Sulle criticità legate all'introduzione del Fiscal Compact sentiamo il Presidente della Commissione Bilancio Giancarlo Giorgetti e il Deputati Massimo Bitonci. La Lega Nord esprimerà un voto assolutamente contrario alla ratifica del Fiscal Compact e del meccanismo europeo di stabilità. D'annunciarlo nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati e il Capogruppo del Carroccio Gian Paolo Dozzo con Maurizio Fugatti. Il nostro inviato a Montecitorio Davide Cordua. Vogliamo così attraverso questa conferenza stampa dire innanzitutto che un dibattito imperniato e noi per esempio del gruppo della lei abbiamo un'ora in discussione generale e un'ora per le dichiarazioni di voto e per gli emendamenti su tre trattati così importanti limitare il dibattito in una giornata su una questione in cui per esempio la Germania si deve così, l'alta corte di Karlsruhe si deve pronunciare per quanto riguarda i profili poi di legittimità ma non solo per salvaguardare gli interessi nazionali della Germania, noi siamo così a un dibattito molto molto ristretto. E quindi se da un lato denunciamo questa cosa, dall'altro lato come leghisti ci fa anche un po' piacere, perché secondo il mio modestissimo parere questo è un ulteriore segno della fine degli stati nazionali così come sono concepiti, da prima c'è stata l'entrata dell'euro e quindi la fine per quanto riguarda la questione della moneta, adesso siamo sul versante politico-finanziario, i parlamenti nazionali non serviranno più a nulla e quindi di fatto con questi trattati si inizia questo percorso che da qui a poco tempo sancirà appunto la fine dello Stato nazionale così come l'abbiamo concepito in questi anni. Il Presidente ha parlato di 125 miliardi che l'Italia deve nell'ambito del MES sul totale di 700 miliardi, l'Italia partecipa con un 18% circa, quindi 125 miliardi. Di questi 125 miliardi vengono divisi in due parti, una parte che è quella che già si è cominciato a versare e si verserà nei prossimi mesi che ammonta 14 miliardi in 5 rate, poi c'è una parte di 110 miliardi che leggendo proprio gli articoli del trattato istitutivo devono essere versate, l'articolo 9,3 del trattato recita in modo chiaro che i membri del MES si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a versare la propria quota di capitale. L'articolo 9 parla entro sette giorni dalla richiesta, quindi noi aderendo al MES dobbiamo versare una quota che magari la prima quota è una quota pur di 14 miliardi, è rilevante per il nostro paese, però uno dice vabbè, ma la seconda quota se ci venisse chiesto la dobbiamo versare entro sette giorni in modo irrevocabile e incondizionato dal momento della richiesta e non è detto che la si debba versare per gli interessi dell'Italia, la si deve versare perché decidono così, dopodiché si vedrà per quali ed eventuali interessi. Voi capite cosa vuol dire per il nostro paese 110 miliardi a trovare in sette giorni perché lo dice il trattato, cosa vuol dire trovare? Noi ogni anno andiamo ad emettere circa 300-400 miliardi sui titoli di Stato, quindi 110 miliardi è un quarto della totale emissione dello Stato italiano in termini di titoli di Stato. Da questo trattato non si può uscire, non sono previste le clausole di uscita, è un trattato istitutivo che non prevede la possibilità di uscita.